Cattane Mundo, non oggi ci può raccontare le novità che presentate oggi, sono importanti anche a livello commerciale? Assolutamente sì, oggi è una novità fondamentale per quanto riguarda il nostro scalo, se vogliamo un ritorno, nel senso che andiamo a comunicare il ripristino dei collegamenti di linea con l'aeroporto di Monaco di Baviera. L'avevamo lasciato qualche mese fa con una precedente compagnia aerea, a parte la pilustanza, ricominciamo oggi con un'altra compagnia aerea, normalmente a parte di Lufthansa, si tratta di BMI Regional, una compagnia che ha anni di storia, una compagnia inglese che ormai, grazie ad un accordo stipulato con Lufthansa, sta crescendo un proprio mini hub presso l'aeroporto di Monaco, effettua collegamenti giornalieri o plurigiornalieri, come nel nostro caso saranno due collegamenti al giorno, con Aeromobili in classe praticamente tutta business, da 37 a 49 posti, collegandoci con Monaco di Baviera, come dicevo prima, sia quindi per la comunità business che ha bisogno di andare e tornare in giornata, sia per offrire poi le prosecuzioni verso le città europee o tutto il network mondiale che Lufthansa collega con questo importante scalo europeo. Ecco, i collegamenti con la Germania, la locomotiva d'Europa, sono sempre più importanti anche per lo scalo belga-vanesco. Assolutamente sì, è evidente che il motivo del lavoro, del business, è uno dei traini che ci consentono di svilupparci e consentono a chi crede nell'aeroporto di Bergamo di riempire, ci auguriamo, i propri voli. Quindi sicuramente per la Germania avere più voli è un fattore molto importante.